Scusate ma se in Germania fanno così, in Francia fanno così, in Spagna fanno così, che dobbiamo fare in Italia? Prendiamo il sistema tedesco, non ci va bene quello italiano approvato a giugno del 2012, perfetto, prendiamo quello tedesco e lo portiamo in Italia, non ci va bene il tedesco, prendiamo quello francese e portiamo in Italia, non ci va bene quello spagnolo e portiamolo in Italia. Siccome tutti e tre questi paesi hanno un sistema solido e che dà per abitante più risorse ai partiti.